Oltre al danno anche la beffa, è proprio il caso di dirlo. Dopo la violentissima grandinata del 10 luglio scorso che ha investito tutta l'area costiera abruzzese e anche alcune località delle aree interne e che ha ferito persone, causato danni a tette, abitazioni e a vetture, chi non è riuscito ancora a riparare la propria automobile e viaggia con il parabrezzarotto rischia di essere sanzionato. A Pescara, dove anche alcune auto del comando della Polizia Municipale sono state danneggiate, il comandante Carlo Maggitti spiega che al momento non sono state levate sanzioni, viste le lunghe file dai carrozzieri e perché non si vuole infierire nei confronti degli automobilisti già fortemente penalizzati dal maltempo. Nel caso in cui il parabrezza sia rotto non viene neanche da circolare proprio ostante l'estrema pericolosità, altrimenti l'articolo 79 del Codice della Strada, una sanzione da 84 euro. Ovviamente noi in questi giorni non stiamo, tra virgolette, accanendoci contro coloro che causa la grossa emergenza di una settimana fa ha avuto dei danni. La raccomandazione è che laddove il veicolo sia effettivamente poco sicuro bisogna mettersi in marcia. La Polizia Municipale di Pescara ha subito danni. Quante vetture sono state danneggiate dalla Grandi? Sì, anche noi abbiamo cercato nell'imminenza di quello che sapevamo poteva essere una calamità, poi così grave non l'avevamo mai vissuto. Abbiamo riempito il nostro capannone coperto di tutti i mezzi possibili, però quelli che non abbiamo potuto riparare hanno avuto dei danni. Tra ammaccature sul cofano, quindi sulla carrozzeria e parabrezza, lesionato, sfasciato, 17 auto sono state colpite. Sono in riparazione, anche noi come tutti dobbiamo attendere quelli che sono i tempi tecnici, anche perché non siamo neanche l'unica forza di Polizia Stradale ad aver subito questi danni. Per cui si approfitta della buona stagione anche per uscire di più magari con ciclomotori oppure con biciclette e aspettiamo che l'emergenza venga riassorbita in tutti i suoi aspetti.